Salve a tutti, io sono Calep84 e bentornati su Space Engineer Oggi è giorno di tutorial Oggi parleremo di come spostare una nave da un salvataggio all'altro Allora, ovviamente sappiamo tutti che premendo CTRL più C in modalità creativa E aspettando un po' che carichi quando la nave è molto grossa Creiamo una copia della nave E anche togliendo la copia questa rimane in memoria Quindi possiamo andare su un altro salvataggio Fare CTRL V Aspettando di nuovo alcuni secondi perché carichi Ed ecco qua la nostra nave Ma cosa succede quando la incolliamo? Nel nostro caso la nave viene copiata Però c'è qualche problema Come possiamo vedere nella copia manca qualche cosa Tra parentesi come vedete Antare sta venendo leggermente modificata nel tempo Per essere più efficiente Ma di questo parleremo più là Come vedete, dicevo Mancano i cannoni Perché infatti col tasto CTRL C e CTRL V Si copia ogni singola nave I cannoni sono considerati navi a sé Navi a parte E quindi non vengono copiati Quindi come posso fare se voglio spostare Antares su un altro salvataggio? Ad esempio per vedere come se la cava a combattere contro un'altra nave Anche questa costituita da torrette, hangar, eccetera, eccetera Come posso fare? È molto semplice Per prima cosa andiamo sul desktop Poi prendiamo la nostra cartella di SE Toolbox O ovunque ce l'abbiamo installata Se non sapete cos'è SE Toolbox Vi rimando a un mio tutorial precedente Nel quale spiego come installarlo E le prime basi su come utilizzarlo Ad esempio per cambiare il tipo di armatura su una navicella Ora che sappiamo cos'è SE Toolbox E l'abbiamo installato Procediamo Per prima cosa creiamo una nuova cartella sul desktop O nella cartella che vi fa più comodo Nuova cartella E la chiamiamo per esempio col nome della nave Nel mio caso Antares E questa cartella rimane qui Apriamo la cartella E avviamo SE Toolbox Ed eccoci qua SE Toolbox pronto Prima cosa da fare Open E ovviamente ci apre il nostro elenco dei salvataggi Andiamo sul salvataggio che vogliamo copiare E abbiamo Antares Ora Andiamo su distanza E abbiamo il nostro personaggio E in base a dove abbiamo lasciato il nostro personaggio Nel mio caso Nel mio caso l'ho lasciato all'interno dell'astronave Quindi il large ship più vicino 38 metri E lui Copio tutti i large ship In questo caso Che si trovano diciamo entro 200 metri Fino a qua Fino a qua Questi 450 metri Non è Non fa parte di Antares Perché ci sono dentro Non c'è nulla che faccia parte della nave Antares Che sia a 500 metri di distanza da me Non è così grossa Quindi fino a 195 metri E' una cosa in cui dovete più o meno arrangiarvi voi Con le distanze Salvate il vostro personaggio Davanti all'astronave O dentro all'astronave Avete un'idea della sua dimensione Se sapete che grande è 200 metri Se ci sono oggetti Al di là dei 200 metri Non fanno parte dell'astronave E non c'è bisogno di copiarli Pure semplice Allora Selezionati tutti Cliccate su export E vi dirà Dove lo salvo? In questo caso è già qui Però voi semplicemente Andate sul desktop E Dove è la cartella? Antares Ok Salva E vi apparirà tante volte salva Una volta per ogni nave E andate avanti 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 Sono tutti file piuttosto piccoli Non occupano tanto spazio E' solo che dovete cliccare ogni volta Non fate la cosa Tipo tenere premuto in via Eccetera Perché rischiate di fare Selezioni strane Sul toolbox Nello spazio di tempo Che c'è tra Tra una conferma e l'altra Quindi Cliccate ogni volta Sì Ok Ora che avete fatto ciò Open di nuovo E Nel mio caso L'ho già fatto Ma anzi Vi faccio vedere come si fa Torniamo sul nostro gioco E al menu principale Creiamo un nuovo mondo Mondo personalizzato Si può fare qualsiasi genere di mondo In teoria di solito Non ci sono troppi problemi E' difficile Centrare un asteroide Mettiamola così Ma Noi per sicurezza Facciamo un mondo vuoto In modalità creativa E lo chiamiamo Trasferimento Così So che cos'è Abilità copia e colla Giusto perché lo faccio sempre Ok E siamo in un mondo vuoto Esc E vai al menu principale Salvare cambiamenti Sì Ok Torniamo al desktop E come dicevo Clicchiamo su Open E adesso abbiamo il mondo Trasferimento Lo apriamo E come vedete Come vedete c'è soltanto Il nostro personaggio Allora cosa facciamo Importa Asteroide No Immagine No Modello 3D No Sandbox Content File Clicchiamo Anche in questo caso A me lo trovo automaticamente Ma nel caso peggiore Andate sul desktop Doppio clic su Antares E selezionate tutti i file Che ci sono E apri Eccoli qua La nostra nave è posizionata A 1,59 km Ora La mia nave Antares In questo caso Ha un beacon Che segna il nome Quindi la vedrò Di solito Con la distanza Di visualizzazione Che c'è adesso Nel gioco Una nave Fino a circa 2 km Se abbastanza grossa È visibile Nel caso peggiore Cambiate la vostra posizione Cliccate sul personaggio E gli dite Anzi Prima fate così Vedete la posizione Della nave grande Che è tipo Meno 413 47 Andate su Astronauta Meno 400 Ed è già 1,54 Diminuito 47 E sono 47 Milla chilometri Insomma Pacioccate un po' Finché non lo trovate Ok Meno 1500 Meno 1400 Ok Adesso siamo a 137 metri Dalla nostra nave Facciamo 200 Così sono sicuro Di non essere dentro Un muro E facciamo save Fatto Torniamo sul gioco Carica mondo Trasferimento Ed eccoci qua E quella è Antares Vediamo un po' Se è stata copiata Correttamente E la risposta È sì Come vedete I cannoni Sono tutti quanti Al loro posto Non c'è assolutamente Nessun problema E oltretutto Avendo copiato Solamente Antares Non ci sono Detriti Per lo spazio Non ci sono Corpi che viaggiano Non ci sono Asteroidi Quindi la lag è Molto minore E noi possiamo Utilizzare questa tecnica Anche per trasportare Ad esempio Un'intera flotta Su un salvataggio Per vedere ad esempio Come sta E direi che questo è tutto Come vedete È un procedimento Molto semplice Veloce E che vi permette Appunto Di collezionare Tutte le vostre navi Anche quelle complesse Assieme Oppure di spostarle In mondi più leggeri Ad esempio Senza asteroidi O senza detriti Dovuti ai vari test Che avete fatto Come capita spesso a me Quindi Se avete ancora Delle domande O non avete capito bene qualcosa Chiedete pure nei commenti Cercherò di rispondere Nel migliore modo possibile Ma nel frattempo Se il video vi è piaciuto Cliccate su mi piace Commentate Iscrivetevi al mio canale Per altri video E ci vediamo alla prossima Ciao ciao